Amici, ma soprattutto amici bianconeri, buonasera, buonasera. Radu, 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 cosa hai fatto, Radu, cosa hai fatto? I milanisti ringraziano, i milanisti, stanno accendendo un cetro, stanno accendendo, nella tua bella fotografia, stanno accendendo un cetro, Radu, sarai beneficiato, santificato, sarai santificato sicuramente, andranno in processione, con il tuo nome, con la tua foto, da portare lì, in quel posto dove le persone vengono beatificate. Radu, cosa hai fatto, e forse qualcuno avrà convinto che l'Inter avrebbe fatto una passeggiata. Tanti commenti dopo il primo gol dell'Inter sono subito arrivati, spiombati, come al voltoio, il Bologna si è venduto la partita, il Bologna si è scansato, il Bologna di qua, il Bologna di là, il Bologna vince. Arnatu ci pareggia, il gol di Persic, bello. E poi Radu, Radu, e purtroppo questa giornata, questa settimana è stata caratterizzata da errori fondamentali dei portieri. Purtroppo è così, il portiere, anche Buffon, anche Buffon, se non sbaglio, ha fatto una cappellata, una cappellata, una cappellata. Sarà questo un errore scudetto, un errore decisivo? Il fatto sta che il Milan resta in vantaggio di un paio di punti. L'Inter domenica deve andare a giocare contro un Udinese che vola, che spazza come un uracano. La Fiorentina la travolge a fura di gol e va ad affrontare un Inter che adesso può anche subire il colpo psicologico di questa sconfitta. Tutto può succedere, tutto, tutto può succedere. Le partite, purtroppo, che le partite, ragazzi, bisogna giocarle. Il campo è sempre sovrano, è sempre sovrano il campo, sempre. In sacchino, in sacchino. Questa volta, questa volta ti è andata male, ti è andata male. Ripeto, la convinzione certe volte è un brutto segnale, è una brutta cosa, la convinzione, è una bruttissima cosa. E adesso, veramente, veramente, si fa seria, se non dire anche brutta, brutta. Chi vivrà, vedrà. A livello, diciamo, di spettacolo, di pathos, ecco, di pathos. Questo è un bel campionato, a livello di pathos. Nella, seppur nella propria, nella sua mediocrità più assoluta. E, a livello di pathos, per le squadre milanesi, è molto, 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 a livello, a livelli alti. A livelli alti. Adesso, chi ha più palle, chi ha più palle, chi ha più... Anche esperienza, anche esperienza, lo scudetto lo vince. Ripeto, clamoroso. Il Bologna ha onorato il calcio. Il Bologna ha onorato il calcio. Nulla da dire. Si è fatta la partita. È stata fortunata. Come l'Inter è fortunato a Torino. Per carità, nessuno questo lo può negare. Che l'Inter è stata fortunata a Torino. E quei punti guadagnati a Torino, li ha persi oggi. Il calcio è questo. Il football. Ma si ci incazzate. Fino alla fine, forse io. Ci vediamo dopo. Villarreal è sotto, di due gol. Ma si ci incazzate. Fino alla fine. Forse io. Iscrivetevi al canale e al sito. Ciao.